Ciao! La qualta e la pioggia non hanno fermato Laura Pausini e nemmeno i suoi fans. La tre giorni in piazza San Marco si è conclusa ieri sera con un enorme successo di pubblico che come le precedenti ha registrato il tutto esaurito con 5.000 spettatori e 1.200 persone sedute ai caffè della piazza. La cantante ha celebrato l'avvio del suo tour mondiale attraversando, in occasione proprio della serata finale, la piazza con un'entrata trionfale, passando in mezzo ai fans vestita di rosso con fiaccole led. Benvenuti a Laura Venezia. Molti commenti positivi sui social, non solo da parte del pubblico ma anche di rappresentanti politici. In primis il sindaco Brugnaro, che ha elogiato le performance dell'artista. Non sono mancate nemmeno le critiche, come chi ha voluto evidenziare la potenza dello show, soprattutto dopo la segnalazione di distacco dell'intonaco arrivata venerdì da un commerciante allarmato per la potenza dei bassi durante le prove. I tecnici però non hanno rilevato cedimenti riferibili al concerto, tant'è che non è stato necessario allertare i vigili del fuoco o l'ARPAV come accade solitamente in questi casi. Ora la palla passa al Parco San Giuliano a Mestre, da dove venerdì partirà il tour dei pinguini tattici nucleari.